Bentornati al canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Con le ultime novità di oggi Il VIP racconta a Lulu di come l'incontro con Alessia abbia cambiato la sua idea sull'amore. In casa la cucina si inizia ad animare per la preparazione del pranzo, Lulu e Davide si trovano a chiacchierare in giardino Lulu racconta al compagno d'avventura una vacanza di famiglia fatta alle Bahamas che le ha lasciato uno splendido ricordo, la conversazione si sposta poi sulla famiglia che per Lulu è molto importante e molto presente nella sua vita I miei sanno tutto di me, gli ho sempre raccontato tutto a ferma spiegando come proprio grazie alla famiglia sia riuscita a superare momenti difficili Io ai miei no o no ma hai raccontato le mie cose risponde Davide, il suo carattere riservato l'ha sempre portato a esternare meno nel contesto familiare Anche per il VIP però la famiglia ha un ruolo importante e il pensiero dell'attore va subito al cugino Checco con cui ha raccontato più volte di avere un legame fraterno La fine di questa avventura è vicina e il pensiero dei VIP va inevitabilmente agli affetti e al futuro che li aspetta fuori dalla casa, Davide non vede l'ora di riabbracciare la sua fidanzata Credo di aver capito che Alessia è la donna della mia vita, lo dovrà capire lei Non ho mai provato una cosa così forte. Lei l'ha già capito stando sei mesi lontana date e risponde convinta Lulù che spiega come secondo lei l'amore e la felicità arrivino all'improvviso, quando non si cercano, proprio come successo tra lei e Manuel Davide è d'accordo, prima di incontrare Alessia spiega come non credesse più nell'amore avevo deciso che sarei stato solo tutta la vita, per difendere per non deludere cercavo di stacco, con lei non l'ho fatto invece Era destino conclude infine Lulù prima di congedarsi.Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video